Non è vero che il Dalai Lama è vegetariano, mangia di tutto e va matto per la torta mimosa, ma senza uova. A confidarci i gusti culinari della massima autorità buddista mondiale è Gianni Tota, chef di fama internazionale conosciuto come lo chef dei VIP. Tota, a Piacenza per tenere un corso di cucina salutare per bambini al centro commerciale gotico, ha cucinato anche per celebrità del calibro di Vasco Rossi e Flavio Bereatore. Siamo qui per sensibilizzare l'uso degli ingredienti naturali ai bimbi, quindi sin dalla piccola età proviamo a insegnarli quanto sia importante nutrirsi in modo giusto. Sei nel nostro territorio, conosci qualche prodotto tipicamente piacentino? Guarda, assolutamente la coppa è uno dei piatti che io porto solitamente nelle case dei VIP. Porto a casa sempre il gutturnio, che comunque è un vino che si apprezza molto e si presta a qualsiasi tipo di alimento. A proposito di VIP, sei soprannominato lo chef dei VIP, c'è qualche episodio particolare che ci vuoi raccontare? Ma di episodi, di aneddoti se ne potrebbero fare veramente tantissimi. Il mio incontro più bello è in assoluto quello che ho fatto con Sua Santità, il Dalai Lama, che è venuto tre anni fa a Milano all'interno di un hotel per il quale lavoravo. Sua Santità mi ha chiamato in camera, mi ha raccontato, mi ha parlato un po' della mia vita, mi ha lasciato veramente perplesso perché ha raccontato cose che so soltanto io e mi ha conquistato. Da allora sono diventato suo personal chef, quindi quando lui è in Italia e in Europa sono l'unico autorizzato a toccare i suoi alimenti e quindi penso che sia veramente una cosa bellissima e del quale vado molto orgoglioso. A che cosa hai rinunciato tu per la carriera? Ho rinunciato a quello che facevano i miei amici, nel senso che quando loro andavano in piscina sabato e domenica io lavoravo, quindi ho rinunciato veramente a tante cose, non è facile.